Che sono artigli? Mi mostro sicuro di essere Spider-Man? E tu? Chi credi di essere? Tu! Mi chiamo Miles Morales. Sono stato mozzo da un ragno radioattivo. E sono sicuro che sei il resto, idiota! Come va? Tu non capisci! Sei un'anomalia! Non! Se mi lasci tornare a casa! Ovunque vai, resti un'anomalia! Tu sei l'anomalia originaria! Miguel! Il ragno che ti ha dato i poteri non veniva dalla tua dimensione! Non avrebbe dovuto mordersi! Miguel, no! C'è un mondo senza uno Spider-Man che lo protegga perché invece ha morso te! Tu non dovevi essere Spider-Man! No! Menti! Io sono Spider-Man! Sei un errore! Se non ti avesse morso, il tuo Peter Parker sarebbe vivo! Invece è morto per salvare te! Avrebbe fermato l'acceleratore prima che esplodesse! La macchia non esisterebbe! E niente di tutto questo sarebbe accaduto! E per tutto questo tempo, io sono stato l'unico a tenere insieme le cose! Miguel, facci piano con lui! Non appartieni a questo posto! Non è mai stato il tuo! Lascia-mi! Miguel, basta! Non avevamo stabilito questo! Non avevate stabilito! Tu lo sapevi! Lo sapevate tutti! Io non sapevo... Come dirtelo? Ecco perché non venivi a trovarmi! Miles, è solo per il tuo bene! E chi lo ha deciso? Non sono un ragazzino! È esattamente quello che sei! Un ragazzino che non ha nessuna idea di quello che fa! Sì, ma... Ho attirato centinaia di Spider-Personi lontano dal tuo piccolo capo. Forse ce l'aveva un piano! E... Sto per fare questo! Tutti non fanno altro che dirmi come la mia storia dovrebbe andare! No... Farò a modo mio! Scusami! Torno a casa! Oddio, Gwen! Fox! Io ho insegnato io queste cose! Devo essere un bravo mentore se c'è riuscito! No! No! Eh eh! Carino! Oh no! Già fatto! Insomma! Eh? Cosa? Inizializzo macchina torna a casa! Firma dimensionale identificata! Firma dimensionale identificata! Andiamo! Andiamo! No! Oh no! 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 Che sta succedendo? La macchina... La macchina si è attivata da sola! Com'è possibile? No! È possibile che il protocollo dell'azienda... No! 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 Mi rallenti! fermalo adesso cosa pensi che stia cercando di fare fa qualcosa fallo miguel miguel fermo no 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 no